e non esce per un motivo e non esce per un altro motivo e non esce per altri motivi stavolta per amore deve uscire eh? suodo l'amico tuo uè Alduccio devi uscire forza Alduccio ma vedi che ci provano tutti e non ci riescono perché pensi che ci provano tutti i cattini sono buoni invito a tutti il signor Rindocesse il mondo che sta fuori è peggiore Alduccio ti voglio bene ma nemmeno l'amore per un figlio ti fa uscire da lì dentro un figlio? io una figlia tengo marzietta e tutta la vita mia lo sanno tutti quanti sto bene qua è qua che ti sbagli perché? non tiene uno figlio non tengo uno figlio mi sta arrivando un altro Alduccio voglio bene tu sei stato sempre stuputo ai miei sei scempi non può arrivare nessun altro figlio io una femmina c'è tenuta mia moglie non tengo una figlia e basta tua moglie è incinta di quattro mesi Alduccio non può essere io sono chiuso la cattina a otto mesi eh tu ma adesso sta libero fuori continuamente ah 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 dulcio che sai? che muo fei capito che sto chiuso a 8 mesi per cantare e la moglie di meccita e la moglie di meccita e 4 mesi e mi sono chiuso a 4 mesi per la moglie di meccita e 8 mesi allulcio devi uscire come muo fei capito che ti hai anche il corno allora e che fa fa se tengo pure io ma che c'entra le corno sono con la mia paella a chi stanno bene e chi stanno male altre stanno bene ma a me stanno male Aldo si esce a cattina e facciano i tre morti, Aldo facciano i tre morti! Devi uscire per forza! Aldo non c'è niente da fare! Sto che non c'è! E cavo gli resta! Capita, voi siete un uomo così bravo, così generoso, vi voglio bene, aiutatemi con quel trasferimento, mi voglio avvicinare a casa! Va bene, subito! Però devo riempire la scheda personale vostra! E quale è il problema? Dite! Nome! Nome! Vincenzo! Cognome! Della mazza! Sesso! Tre volte alla settimana! Brigadino, non intendevo questo sesso! Maschio o femmina? Maschio! Femmina! Qualche volta anche da solo! Caro signor Aldo, come state? Bene, bene! Spero che sono stato di vostro aiuto! In verità siete venuti qui da me che siamo tutti scassati! E' vero! E' vero! E l'abbiamo messo a posto! Il problema della prostata che non aveva più la possibilità di fare sesso! E l'abbiamo risolto! Capiste pure se io non puoi dire signor Aldo! Vuoi riparvi lo scasso? Invece io ho fatto tornare un gelarotto! Dite la verità! Eh! No! Raccontatemi qualche cosa di voi! Come mai state qua? Dottore! Mi sono appena scoperto a campagna! Puntò un uccello, un faggiano che volava! Lo puntò con l'ombrello! Lo sparai! Pua! E la caretta scuscella proprio in mezzo ai piedi! Ma non è stato lui! Eh! E' manca buia di tuo padre o bambine! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa robina qua? Che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che cos'è questa robina qua? Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che cos'è che vuoi dimostra? Ma che bontà? Ma che bontà? Ma che gossino che sa roba qua? Ma che bontà? Ma che bontà? Ma che bontà? Grazie.